Vi salutano soprattutto Kali e anche Tofi. Perché? Perché Kali e Tofi? E anche l'Arencino che li sto mangiando. Perché Kali e Tofi? Perché oggi mentre eravamo qua mi è scappata. Mi è scappata Kali. Mi è scappata qua. Questo punto qua. Mi è scappata. Mi è scappata dal guinzaglio. Mi è scappata dal guinzaglio. Mi è scappata dal guinzaglio e stava finendo sotto le macchine. Anzi, gli è passata una macchina a un centimetro dalla testa. Qua ho dovuto fermare le macchine. Ho dovuto fermare le macchine per strada. Ringrazio la gente, tutte le persone, magari nel mio canale non è che lo vedono in molti. Però ringrazio le persone. Per questo non bisogna fare del male a Pandera, alla gente. Perché ci sono delle brave persone. Mi avrebbero potuto prendere per pazzo, per uno fuori di testa, in mezzo alla strada, a gridare come i pazzi. Ma stavo urlando semplicemente perché sennò a Kali la schiacciava. Sarebbe stata schiacciata. E invece non è successo niente. E siamo qui. Ringrazio quelle dieci macchine che si sono fermate e che non mi hanno preso per parte. Perché non la vedevano. Lei si era infilata qua sotto. E Tofi, bravissima, che stava ferma lì. È stata ferma all'ingresso del posto, qua, del parchetto, senza muoversi. L'ho lasciata lì, ho lasciato il guiderio e mi sono lanciato per strada a bloccare le macchine. Mentre Kali attraversava con le macchine che la sfioravano. E ripeto, ringrazio le persone che si sono fermate e che non mi hanno preso per pazzo e che hanno capito che stavo facendo. Ciao a tutti. Sempre qualcosa che dimentico. Mi stava venendo un colpo al cuore. Però l'ho testa, insomma, mezz'oretta di autonomia. Per un infarto ce l'ho. Prima per mezz'oretta caffurdo. Urlo. Faccio quello che c'è da fare. Poi magari dopo mezz'ora mi prendo un infarto. Va bene? Sempre sincero e onesto. Ringrazio le persone. Queste persone.